Musica Parte numero 27, aspettate Allora, in questa parte batteremo le kimono girl Mi curo un attimo pokemon Dopo questa parte E forse un'altra Metterò anche le parti di smeraldo Ecco il nostro rivale Che ci vorrà sfidare Quindi non batteremo solo le kimono girl Ma anche, no Non ci vorrà, ah non ci vorrà sfidare Mi ricordavo di sì, vabbè E noi andiamo a battere Le cinque kimono girl che abbiamo incontrato Perfetto Iniziamo a battere la prima Nini 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 Meno me l'ha messo ombreon Accidentaccio Ammazzati Mi figli in giro Allora, no Allora, te Mori ombra Ma che attacco è l'ultima scelta? Non l'ho mai capito Non lo capirò mai Muori sotto altre luci sofferenze E' un buon pokemon numero Mi sarebbe piaciuto averlo Però è difficile da far evolvere Mettiamo la seconda Che avrà un Espeon mi sembra Se non sbaglio Infatti Non si può fare tanto Quindi Infatti Ci ammazza Eh si Ci ammazza E noi si mette Alla Kazam Cavolo Ho dimenticato di prendere Geridos Vabbè Capita Lei dovrebbe avere Un Vaporeon Se non sbaglio Poi ci dovrebbe essere O un Jolteon Poi ci dovrebbe essere Jolteon E Flareon Però ora non mi ricordo No, ce l'ha lei Flareon Perfetto Hanno tutte Come si è capito Tutte le evoluzioni Dei Di Che sono Giustamente In questa regione In questa regione Perché poi c'è Anche in più Liffeon E Glaceon E penso Basta Si Basta In questa regione In questa regione Riesce a ammazzare tutti Con Alla Kazam Si Paralizzo Ma Per nostra fortuna C'ha più attacchi Speciali Che fisici Infatti Attacco ancora E l'ultimo Ragiro Che Massa Chi usa Chi la usa Coglie il nemico In controllo E facendogli cadere Il suo strumento Che schifo E' l'ultima Che ha Vaporeo Ed eccola qua Al 38 Ammazzati Ha ha Favicchia Oh ma T'ammazzi Ammazzati 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 non avevamo dunque sbagliato giudizio se la persona è la giusta a cui affidare questo oggetto niente affatto fittizio ecco camp chiara che ci servirà per calcolare omo ed ecco qui infatti che arriva la solera e fa l'ombra di un pokemon gigante sovrasse la solera campana come se fosse un turbante anche lei ha iniziato a fare le rime e vanno tutti lì e ora vado intanto a togliere questo garidos rosso di squadra e prendere il nostro vecchio caro amico garidos intanto continuiamoci poco se fortunatamente non bisogna fare volo non serve surf, non serve forza, non serve spaccaroccio, non serve niente quindi non bisogna insegnare nulla a nessuno prendere pokemon aggiuntivi non come 4 app e 4 lugia serve surf e mulinello allora vediamo se abbiamo un po' di pokeball si le abbiamo allora prendiamo un po' di repellenti perchè i pokemon si incontrano per nostra sfortuna oh c'è l'allumino che vuole ma non mi interessa allora poi ci abbiamo allora prendiamo un po' di iperpozioni tante volte c'è un mazzas non si sa mai poi i repellenti max quanti ne abbiamo in borsa niente quindi noi si fa ta e ta compra si e se ne comprono 10 e se ci se ne va e per andare bisogna entrare qua dentro e se si parla con questo mino ci fa se la campana è stata creata proprio per carcere un luogo che riposa il leggendario pokemon che è solo il caceli oh oh visto che non è più tornato moltissime di torri hanno provato a scadare la torre per invocarlo ma nessuno è mai riuscito a farcela anche il capo palestra di qui angelo è uno di loro ma quella è la medaglia della palestra di marantapoli da solo la medaglia non è sufficiente da almeno ma almeno posso concierti di passare e si può passare aspetta scusate era un bug ok rieccoci qua perchè se rientravo in una casa mi si bloccava cioè mi si bloccava e dovevo riniziare dal builder dove quindi è dovuto salvare e spengervi e accendere comunque allora andare qui e questo mino ci farà ci dirà ma 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 è la diride allora può passare grazie e si inizia la nostra scalata e non si inizia a usare la repellente ma ci sono un po' super repellente da molto questo allora di qua si prende questa pokeball no 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 faccio questo piano e poi ok noi ci si ferma a questo piano e ci si vede nella prossima puntata dove continueremo e forse cattureremo oh oh ciao a dopo